Vi piacciono i mezzi da strada, vi piacciono i mezzi volanti, vi piacciono i mezzi marini ed eccolo qua, è il gioco su cui possiamo giocare a qualsiasi mezzo di trasporto esistente al mondo o quasi The Crew Motor Fest è arrivato ragazzi oggi sul nostro canale Bentornati su Stormplayer, 14 settembre 2023, esce The Crew Motor Fest Lo dobbiamo provare assolutamente subito ragazzi anche se siamo un pelino in ritardo a confronto agli altri Ma non fa niente, eccoci qua pronti per iniziare l'avventura su questo gioco Che ci farà perdere un sacco di ore probabilmente Già abbiamo tanti giochi su cui giocare quindi se ne aggiunge un altro Veramente veramente coinvolgente che ci farà impazzire